Qualcuno ha intenzione di rubarmi il canale, ma non glielo permetterò! Questa è arte per te, arte per te Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te! Oggi un video special, un video special in cui cedo la poltrona e cedo la matita Ragazzi, ebbene sì, l'altra mattina Gabriele così in maniera del tutto estemporanea si è messo a fare un incisione a linoleum Allora io ho preso la videocamera e ho puntato la videocamera sul suo lavoro Ho detto se esce qualcosa di bello faccio un video per i ragazzi Perché? Perché filmare Gabriele e non farlo io? Perché Gabriele ha un modo di porsi con la materia artistica in maniera diametralmente opposta alla mia Quindi posso farvi vedere un'esperienza d'arte diversa Uno stile di approccio all'arte e alla composizione artistica completamente diversa Adesso spostiamoci di là e andiamo a vedere cosa Gabriele combinerà Ed eccoci pronti a guardare Gabriele all'opera La prima differenza tra me e lui è che lui disegna direttamente sulla lastra di linoleum Io non farei mai una cosa del genere ma riporterei un disegno fatto da me e corretto centinaia di volte Con la carta carbone o con un trasporto a grafite Bene lui come vedete invece va subito di matita e poi senza neanche correggere gli errori E comincia a graffiare Come non è vera? No, lo ferro è ma corretto dai Sì vabbè comincia a graffiare così in maniera veloce la tavoletta di graffite Diciamo che la sua è un'immissione ad impeto più che studiata È vero, sì perché mi fa di vedere la cosa finita proprio voglio provare, voglio vedere se funziona E quindi è la fretta, la fretta che alcune volte è cattiva consigliera Però alcune volte invece dona freschezza al manufatto proprio come in queste cose Certo andare avanti così velocemente porta a compiere qualche piccolo errore Ma la cosa bella dell'immissione artistica di Gabriele è che per lui gli errori non sono fonte di crisi ma fonte di spunto Adesso andando avanti dove fa il beccuccio Tac lì eccolo qui ha fatto un errore Ma come vedete non si è fermato neanche un attimo Cioè lui continua ad andare avanti Forse qua non l'avevo ancora notato Qua qua, qua, qua già, sì qua già l'avevo notato l'errore Ecco, ma lui nel frattempo continua là dove la parte è ancora esatta A cercare mentalmente una soluzione artistica in cui inglobare il suo errore Qui ha fatto fuori il beccuccio della caffettiera malamente Purtroppo con le sgorbie non c'è perdono Se fai saltare un pezzo non è che puoi tornare indietro ad appiccicarlo O meglio, se vi interessa un video su come rimediare agli errori da incisione all'inoreum Ditemelo che ve lo faccio perché poi non è poi così difficile Comunque, come vedete lui continua ad immettere La particolarità di Gabriele è anche il segno Come vedete lui ha una linea continua nel suo incidere Non va a casaccio, è proprio come se creasse un disegno con la sgorbia Come se usasse la sgorbia come una matita per creare anche le profondità Mi sono molto divertito a fare questa caffettiera Io volevo fare solamente una caffettiera Poi Ombretta ha detto, eh, giriamo il video e quindi eccoci qua Quindi mi raccomando, gli insulti non sono graditi No, nessun insulto, guardare una persona che crea qualcosa è sempre molto, molto divertente Anche perché loro sono molto curiosi Vedete, adesso il manico Altra parte che io avrei condotto in maniera completamente diversa Posso dire la visione di questa caffettiera? Sì, certo Io ho una caffettiera di fronte a me, voi non la vedete Ma al di là di questo tappetino verde c'è la caffettiera Quindi io ho la visione frontale e un po' più dall'alto di questa caffettiera Quindi io il manico non lo vedo in effetti di profilo Lo vedo anche un po' dall'alto Dall'alto, un obliquo Una visione obliqua dall'alto E quindi lo poggia così In maniera che poi viene fuori Casualmente quasi cubista È come se lui aprisse la caffettiera A più lati per farla vedere Ma non era il mio intento Lo so, ma non importa Perché molto spesso l'arte sta negli occhi di chi guarda E non nella mano di chi la fa E allora, guardate adesso come risolve la faccenda a beccuccio Lui allarga e dà una forma di fantasia Che poi vedrete al momento della stampa Starà benissimo Controlla giustamente La resa è Ha fatto E come vedete fuori dal beccuccio è saltato un pezzo sotto E il beccuccio ha una strana forma Per stampare usiamo la carta 4 di Anemiule Che è una carta che sopporta molto bene l'umidificazione Sopporta bene anche me Sopporta l'impeto di Gabriele E come colori sta usando un mix di colori della sminche Ho usato il giallo, il rame, il nero E questo E un glow Un gel che rende lucida la stampa Questi colori ragazzi sono fantastici Come fantastica è anche la carta di Anemiule Perché adesso vedrete Gabriele Come riempie la tavoletta Vedete non è che ci sta a cent'anni come faccio io E sto attenta a tutti i margini Lui fa due passate e via Carta umida Mani di sopra Sporca il retro della carta Perché lui è così Lui è di impeto Si ci va due volte col pestino Ma poi si annoia E va di mano Ah l'hai tagliata Vigliacco questa parte E guardate il colore La carta La carta non si imbarca minimamente Il colore fa passare tutto Quindi Fatta la prima stampa Che è una prova d'autore Si accorge che ci sono ancora delle parti da rimuovere E giustamente corregge in virtù della prima stampa Quindi toglie quella macchia che si era creata nel triangolino frontale Ripassa un'altra selezione di colori Questa volta ho preso un giallo Un verde Un verde scuro E poi ho aggiunto successivamente un blu Questi colori si mescolano molto bene Un turchese però più tendente al verde ecco Mi farò presto una recensione di questi colori Perché sono davvero spettacolari E poi la cosa Si La cosa fantastica È che va via tutto con un colpo d'acqua Vanno via velocissimamente Ma si fissano perfettamente sulla carta Qui bagna un altro foglio della serie 4 Passa questo bellissimo verde brillante E voilà C'entra il foglio così molto E mani 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 ma poi anche il pestello ecco Eccolo certo certo Il pestello professionalità E guardate che risultato Bellissimo veramente è bello Abbiamo deciso di realizzare questo video Proprio per incoraggiarvi al gesto creativo libero E per farvi vedere come da dei piccoli errori Non si debba essere fermati Ma si debba essere spronati A creare artisticamente con fantasia ed armonia Quindi tentate Supportatevi con buoni materiali Ma soprattutto divertitevi a risolvere i problemi che incontrate Come vi ho detto con armonia e creatività Grazie a tutti per aver visto questo video E grazie veramente per supportare arte per te Ciao Visto che bella la stampa che ne è venuta fuori Ora lui non è voluto venire qui a parlare Perché si vergogna Perché dice il canale è tuo Io non c'entro niente Però effettivamente Diteglielo anche voi Ci sarebbe dovuto essere In realtà c'è E là dietro Sorgnone imbronciato Perché lo sto nominando Vero che sei Sorgnone imbronciato? Sorgnone ci sei tu Imbronciato? Un bo' Un bo' Allora Perché? Perché Gabriele ha un approccio diretto Non studiato Di impulso Di impeto Lui è proprio uno di quelli Che non è diventato bravo a disegnare Ma che è sempre stato bravo a sintetizzare la figuratività Il suo modo di imprimere il gesto pittorico Quindi è un modo dinamico Mosso È un modo anche inesatto Ma che fa sembrare bello Ciò che disegna Dipinge Incide Come in questo caso Ma che stai volendo dire? Il metodo dell'ignorante Che fa degli scarabocchi Che non tanto lo so No no Sto volendo dire Che alcuni Hanno un impeto creativo Che è diretto E non è filtrato Come per esempio Nel mio caso Dall'imposizione tecnica delle cose Io sono una Che ha imparato a disegnare Imparato a dipingere Seguendo delle regole Lui è uno che ha dovuto disimparare Alcuni gesti che faceva Schiacciato dalla tecnica Ma che di impulso Andava già bene di suo Perché il cervello fa anche di questi scherzi Dota alcuni di una maggiore Trasposizione figurativa E alcuni un po' meno Mi hai detto che c'è il cervello strano Sì tu hai il cervello Senti se vuoi parlare Devi venire qua No E allora Arte per te deve esserci sempre un bretto Arte per te deve esserci O al massimo titolo Vabbè E allora cosa voglio farvi notare Questa caffettiera Così Strana Così anche imprecisa Io non l'avrei mai fatta così Però Nello stesso tempo Passamela please Piena di dinamismo Non sta ferma sul foglio E Si sente quasi il borbottio E In 4 e 4 8 Come avete visto Gabriele ha dato un senso Quasi cubista A un qualcosa Che Fa parte del mondo reale Che forse io avrei saputo rendere Soltanto in maniera Banale E perisse qua Copiandola Così e com'è Lui ci ha messo del suo E ci ha messo del suo Con un gesto creativo Che va Al di là Della Tecnica Al di là Delle regole Questo può succedere Quando assimilate Le regole Avendo un buon bagaglio Di competenze Potete anche Fare Quell'eccezione Che movimenti Il vostro foglio Ecco il motivo Per cui vi ho fatto vedere Un'opera Di Gabriele Di Gabriele Sì ma dietro le tue Caffettiere C'è molto Molto di più Veramente Bene Se questo video Vi è piaciuto Intazzinatemi Un bel pollice In su Anzi Intazzinateli A Gabriele Che dice Che i suoi disegni Sono in vendita Il miglior offerente Credo che racimolerai molto Tipo 20 centesimi A me non mi ci faccio il caffè Bravo E soprattutto Condividete questo video Sulle vostre pagine Facebook Una nota di merito La devo dare Alla carta Ane Mule Che ha retto benissimo Non avevamo mai Non ne avevamo mai parlato In stampa Come vedete Ha retto benissimo La stampa Regge l'umidità Prende il colore In maniera fantastica Gabriele ci è andato Anche giù selvaggio Non è stato attento A tutti i particolari Magari come posso stare io Mentre faccio Un tutorial Eppure L'imprimitura È venuta perfetta La carta ha reso Il colore È bellissimo A contrasto Con i colori Devo dire però Che ho usato Dei colori d'eccellenza Che sono quelli Della sminche Che sono veramente Veramente Dei bei colori Lavabilissimi E lavabilissimi Tutti gli oggetti Che abbiamo usato Il rullo Il tappetino Si sono lavati In un attimo Perché sono Colori ad acqua E pubblicità No È verità Però tutti i materiali Me li hanno mandati Le aziende Quindi sono note Che io faccio Apposizioni In più Alle recensioni Che ho fatto Sulle cose Che vi ho fatto vedere In passato Le stiamo usando Vi dico come ci troviamo Molto molto bene Molto 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 affidabili Bene Questo è tutto Noi ci vediamo Sempre qua Per il prossimo video Con Gabriele Su due cuore in a cappe E con me Anche su ombretta La ombretta Ed arte per te È tutto Alla prossima volta Ciao 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 Ciao